menditto rosa odori d'anima è il mio brand il mio marchio la mia vita la mia passione la mia vocazione siamo qua ancora una volta a destanza pur essendo un marchio molto giovane un marchio soprattutto molto artistico molto indipendente un marchio che oserei dire che non è nicchia è di più un outsider della nicchia è stato anche definito proprio di come dire in inglese potrei dire the ultimate niche e stiamo qui a presentare in particolar modo una novità si chiama nettuno il primo lavoro astrologico di menditto rosa però con l'occasione lo inserisco all'interno della mia linea preziosa una linea che si chiama talisman collezione preziosa si chiama talisman perché ognuno di questi pezzi unici di questi pezzi artistici è un talismano vero e proprio dietro ognuno c'è un mondo di ricerca c'è come minimo un anno di studio brevemente vi posso dire che dietro le matt che ha fatto il primo talismano c'è il mondo dei tarocchi di martiglia è un grande studio al riguardo dietro sogno reale che il secondo talismano c'è il mondo dell'inconscio dei sogni ho scomodato jung e tutti i suoi studi sui mandala e dietro l'ultimo nato il meraviglioso odore di specchio di nettuno c'è l'astrologia contemporanea c'è un nome del calibro di marco pesatori che il mio maestro è un grande autore astrologo contemporaneo e poi c'è questo capolavoro di odore questo nettuno che è una sorta di polvere cosmica e ma allo stesso tempo uno specchio planetario delle nostre possibilità infinite le delle nostre infinite libertà e con una frase di marco che ha scritto una poesia che mi ha ispirato per questo profumo che si chiama il volo di nettuno possiamo dire che è un odore che si posiziona lì dove gli dèi danzano e gli specchi volano nella galassia della vita